Pareggio interno per lo Sporting Ponte Cagnano nella sfida contro la Giffonese valevole per la 24esima giornata del campionato di promozione. I gialloblu sono stati fermati dai picentini in piena corsa per la salvezza dopo una partita tutto sommato equilibrata. Giffonese in vantaggio al 25esimo del primo tempo con Chiancone, bravo ad approfittare di un'incertezza della difesa e ad insaccare di destro. Il gol sveglia i padroni di casa che alzano il baricentro e riescono ad agguantare il pareggio con un rigore di Amato. Gialloblu quinti ad otto punti dalla vetta. Soprattutto il primo tempo non abbiamo fatto bene, riusciamo ad accorciare sugli uomini, li facciamo sempre girare, non abbiamo fatto quello che provavamo di solito. Siamo andati in difficoltà, tra cui abbiamo anche preso gol. Poi ho cambiato un po' qualche uomo, anche perché comunque avevamo dei problemini fisici, soprattutto per l'attacco. Il secondo tempo ci siamo messi con una mezza punta e abbiamo trovato il gol sul rigore. Anche se è da recriminare che il primo tempo, dal mio punto di vista, c'erano due rigori nettissimi. Niente, poi abbiamo cercato comunque di mettere su questa partita, ma non è andata tutta a buon fine. Abbiamo rischiato di prendere il secondo gol, ma nello stesso momento abbiamo avuto tante occasioni davanti al portiere, ma abbiamo colpito anche una traversa direttamente su punizione, ma non siamo riusciti a mettere la palla dentro. C'è tanta recriminazione, soprattutto sotto questo punto di vista, perché arrivare 6-7 volte davanti al portiere, sia da un cross, da una punizione diretta e tutto, e non riuscire a spingere questa palla dentro, soprattutto in casa, che dovevamo fare punti, c'è da recriminare tanto. Ho visto una squadra, soprattutto il primo tempo, che non mi è piaciuta, un po' spesso, anche se comunque il vento ha condizionato soprattutto la partita. Ho visto una squadra, soprattutto il primo tempo, che non mi è piaciuta,